Che fai Fede? Ti spaventi? No, no, no. Quale motivo mi dovrei spaventare? Fede, ti sto stupendo? O ti sto spaventando? È un mix! È un mix, papo! Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video! Oggi proviamo una macchina davvero speciale, la mia M2 gialla, con cerchi neri, bella, con le pinze azzurre, non è male, non sembra... Ciao, sono Mitch. Ciao. Come stai Fede? Ti vedo poco in forma, cosa succede? È catabolizzata, non vai più in palestra. Allora? Tutto bene. Quindi siamo qui, siamo tornati, perché dobbiamo ammetterlo e dobbiamo dirlo a tutti, che lui porta sfortuna. Ma porca miseria, io mi sono rotto un crociato con te. Lui è il primo partecipante di In Pista con lo youtuber. È vero. È stato il primo. Di un video che non è mai uscito, purtroppo. Mai uscito, per i media audio, tutto è successo. La sfiga è incredibile, però siamo qua per replicare, fare un 2.0 con la macchina del buon Fede, quindi bisognerà trattarla un pochino più con i guanti rispetto all'altra. Molto bene. Una Porsche GT3. Però ci divertiremo. Ci divertiremo. Io mi divertirò sicuramente, tu non lo so. Quindi faremo due giri che guiderai prima tu. Esatto. Tu Fede. Ah, perfetto. Allora tu sei Fede. Ok, giusto, giusto. E poi due giri che guiderò io. Ok. E vediamo un po' come reagiamo. Vediamo come te la cavi. Andiamo. Vabbè, penso che la conosciate. è lei, la mia M2, 370 cavalli, 3.000 turbo e ora è l'ora sua. E c'è anche il buon Blink che è stato il primissimo partecipante, quello vero. Sempre in mezzo. La verità è che eravamo tutti quel giorno lì, solo che io sono stato lo sfigato a cui si è rotta la macchina quando sono in casa. Appena sei salito. Questa è un'altra storia. Chissà come mai. Secondo me è lui che... Come ne vado a casa. Quindi? Allora, vai piano in curva perché ho visto lui e alcune curve non so come le ha fatte. Quindi secondo me se provi a farle tu vai dritto. Oggi sono certo di andare dritto. Perché abbiamo appena finito una puntata di time to push che mi ha aiutato, però la vedrete tra un po'. Non male. Andiamo. No, facciamo una cosa. Io ti metto, tolgo il traction, quindi mi sto fidando molto di te. Ok. Ma lascio il controllo di stabilità. Giusto perché così almeno... Facciamo passare che c'è... Sì, magari. Un quad. Un quad. Un quad. Mia, ce la fai indietreggiare o alzare il bracciolo? No, non si sposta. Ok. BMW, BMW. Eh, che ne so. Fate un cambiamento per il buon match. Ok, sono tranquilli. Punto di corda. Ok. E poi, quando vai gas, posso permettere il consiglio? Direi che mi devi indirizzare anche perché la pista non la conosco. Sto andando tipo in... La cosa più importante è lo sguardo. Tu mi dirai, sembra una cagata, ma in realtà dove guardi vai. Quindi anticipiamo tutto con lo sguardo. Punto di corda. Ok. Guardi già l'uscita. Sì. E finisci lì. Ok. Tranquillo, che mi sto già cagando addosso. No, dai. No, no, non è vero. Assolutamente... Lo sguardo mi aiuta tantissimo come cosa. Non è la prima volta che me lo dici. E sfruttiamo tutta la pista. Qua c'è la cura veloce, che non dovrà essere molto veloce a primo giro. Ok. Ok. Dai, sta andando piano, Fede. Va bene. Mi fido molto di te. Qua terza. Sfrutta la pista. Molto bene. Sguardo lì. Ok. Anticipiamo un po' tutto. Sì. Però vabbè, ci sta che non conosci la pista. Anticipiamo con lo sguardo qua. Sfrutti la pista e vai largo lì. Ok. Però mi piace molto perché la prendi con calma. Che è una cosa molto buona. Sfrutta la pista, vai usci da qui. Frena qua. Ok, vai un po'. E qua c'è un trattino molto stretto. Molto. Quindi allungo. Frena, 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 frena. Madonna. Sembrava larghissimo. Infatti invece è strettissimo. Ok, quindi lì cosa faccio? Allargo e stringo poi. Questa è una curva proprio a Monte Carlo style. Qua c'è una curva a destra. Aiuto. Bravissimo. Mi sembra che si chiudono. Anticipiamo con lo sguardo. Chiudi. Seconda. Troppo. Stai soffrendo qui? Buono. Frena. Fai largo qui. Ok, ok. Qui largo. Stretto. Cosa vuoi strumentare? Sono i freni. Oh, good. Yeah. Mi piacciono. Frena. Uhuhuh. ABS. Bello. Pochino. Molto bene. Ma quanto ti fidi a farmi fare... Qua seconda. Scusa. Quanto ti fidi a farmi fare un giro senza traction? Poco. Perdi. Ah, fidati di Michael, fede. Voglio fidare. Dai, vediamo. Fanno per il YouTube. Questa è la frase fatta dello YouTuber del 2016. Ah sì? Sì. Dai, faccio il bravo, giuro. Qua è tutto off. Tutto off? Ok, dai. Sto più attento. Parti di scherzi. E' tutto. Che fai, Fede? Ti spaventi? No, no, no. Quale motivo mi dovrei spaventare? Fede, ti sto stupendo? O ti sto spaventando? È un mix. È un mix, papo. Dai, qualcosina, qualcosina ancora ricordo. Dobbiamo perfezionare un po', però, si vede che l'idea ce l'hai eccome. Qui, attento. Un po' a discesa un po' pericoloso. Qui, no. No, dai. Facciamo i bravi. Dai. Ok. Ok. Attenso qua, attento qua. No, 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 no. Ok. Basta, basta. Avete potuto vedere gli occhi di panico di Federico? Credo che sia la prima volta che lo si vede sul canale. È terrorizzato. Quanto ti fidi a farmi fare un giro senza traction? Poco. Terrorizzato. Terrorizzato. Come mi hai insegnato tu. Facciamo un giro di raffreddamento, dai. Sempre. E mi raccomando. Posso dire, ti però, la verità, avevo il pieno controllo. Ok. Ti giuro. Mi sentivo in pieno controllo. Perfetto. Veramente. Ok. Fede. Ok. Quanto ti sei agitato? Non ti sei agitato. No, niente. Tranquillissimo. Oddio, stai sudando. Allora, sono riuscito a spaventarti. Adesso è il tuo turno, però. Quindi, come al solito, cambio. Meno di un attimo. Mi è ancora sudato, eh. Assolutamente. Dai, fammi vedere cosa sai fare. Ok, usciamo da questo garage. Allora, come la fai godere, Fede. Uuuuh. Uuuuh. Madonna mia, quanto cazzo entri forti. Qua Torantino. Ehehehe. 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 Belli stretti qua. Madonna. Ma io credevo di sapere andare. Ehehehe. Qua chiusi questo Torantino. Vedi come stringe. Cazzo. Andiamo. Due tornanti. Tornata forte. Stende il punto di corda. Poi si dà gas. Poi poi torna due volte. Cazzo. Uuuuuh. Uuuuh. 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 Ti ha tutta di traversa. Sei proprio stronzo. Eh. Non ha il traction. Non. Spanda. 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 L'hanno fatta proprio male sta macchina eh. Belle strette qua. Belle larghe qua. Porca p***a la Fede. Ti hanno fatto proprio furbo i tuoi genitori eh. Chi è come gode l'M2 Michelin un po' meno Stavo bene l'uscita e andiamo Madonna mia C'è un altro giro? Un altro giro? Sì Come cazzo l'hai preso? Ok belli stretti guardi Capitana Madonna mia Vai 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 Cazzo Ma sta con una stringe Si va stringe molto Mamma mia Godurioso Intanto da fuori ci stanno salutando Ciao di traverso Cazzo che pendolo fe Sì dai Madonna Mi sono divertito E come scorre però Stiamo facendo un giro di raffreddamento Più forte di quello che ho fatto io Giro lanciato praticamente Quindi adesso chiediamo Chi vorrebbero vedere Per il prossimo Il pista con lo youtuber Stava dicendo allena lo youtuber Il prossimo youtuber da far divertire di traverso Cazzolina Come pendola Ok Siccome quando c'è i motori c'è sempre Blink ormai di mezzo Perché non ha più un canale di informatica ma di motori Motori Ovvio Ormai sui racing ti ho preso Però gliel'avevo promesso un giro con le M2 È da mesi che glielo prometto Quindi anche se non è la sua puntata Facciamo un giro dai Un seconda che almeno Ok Comunque una domanda Dopo averti visto da fuori con Mitch Hai avuto più paura mentre mi lava lui O con la Ari e la Monza Eh lo scopriai nel video Ok Secondo voi Si è messo il portagenti Box 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 Vede posso dirti che sei veramente una brutta persona Anche tu Porca miseria Si è spaventato Che hai visto la morte in faccia Ha visto la morte nera Quindi ti sei divertito? Mi sono super divertito Tantissimo Però Ci vediamo nel prossimo episodio In effetti non lo so Io non ho nessuno Però magari li facciamo scegliere a voi Commentate qui sotto Dateci consigli Il prossimo youtuber da invitare in pista È Blink No scusate E mi raccomando ragazzi Seguite il buon Mitch sul suo canale E anche il buon Blink Quindi iscrivetevi al canale Ricordati di iscrivervi anche al mio Ma io direi Prima di concludere Magari a 10.000 like Ci arriviamo per il prossimo video? Si Per la prossima puntata? Dai A 10.000 10.000 Mi sembra onesto Ci siamo super divertiti Grazie mille Fede Grazie al prossimo video allora Ciao Ciao Ciao